Aspettavo così il mio allamico. Acida. Verde, rossa e... Questa è inventata io. Cos'è? Porre. Mi piace? Hai assaggiato? Assaggia, voglio che... Assaggia, assaggia. Accida, ma... Accida. Puoi togliere la pittura della tua macchina con quella acidità che c'è lì dentro. Il problema con queste salse è che non sono magnetiche, sembrano omogeneizzate e poi ha un'acidità violente, da ulcera. Il pirole è finito, la bottiglia è nascita. Bene, la tua salsa qual è? Questa. Questa è inventata. E cosa c'è fuori? È anestetizzante questa salsa. È una tragedia. Ma questa l'hai assaggiata? Sì. Cioè, ha lo stesso sapore del detersivo che metti in una lavatrice, è uguale? No. Esattamente lo stesso? No. Ci sono i teschi sopra? Sì. Queste salsa le preparo per la signora dove lavoro, lei va matta. Per queste salsa le mangi, scalda il pane, le metti sopra e le mangi sempre. Come i peritivi. Eh, Susanna.